Come è nata l'idea di confrontare le vite di questi due papi vissuti in epoche così diverse? L'idea è nata proprio da fare un identikit di questi due papi che sono proclamati santi nello stesso giorno e attraverso questi identikit è proprio la curiosità che ci ha spinti a confrontare passo passo la loro vita, il loro pensiero, i loro gusti, il loro modo di vivere ma anche l'epoca in cui sono vissuti, la loro spiritualità, le loro letture, i grandi problemi che hanno i grandi temi storici e culturali che hanno dovuto affrontare, il loro modo di viaggiare, il loro modo di approcciarsi alle persone non tanto per vedere dove sono simili e dove sono diversi ma proprio per vedere che cosa nasce dalla grazia di Dio che agisce su due persone diverse, in due epoche diverse ma la stessa grazia di Dio. È vero che vivevano in due diverse epoche però sono proclamati santi lo stesso giorno, la domenica della misericordia, la prima dopo Pasqua, il 27 aprile e quindi diventa interessante un confronto fra i due papi che è vero che sono vissuti in due epoche diverse però entrambi hanno segnato una svolta nella vita della Chiesa. Papa Giovanni XXIII ha avuto il grande merito di aver voluto il Concilio Vaticano II sorprendendo tutti. Quali sono i frutti che vediamo oggi? Il Concilio Vaticano è ancora vivo e va portato avanti. Giovanni XXIII ha avuto il grande merito di pensarlo e di farlo partire, portato avanti dai papi successivi. Lo stesso Giovanni Paolo II quando era vescovo ha contribuito, quando era arcivescovo di Cracovia, ai lavori conciliari. Chi ha iniziato il primo fiore potremmo dire di questo seme seminato da Giovanni XXIII è stato Giovanni Paolo II il quale con il suo continuo viaggiare ha buttato questo seme e ha fatto come dire è l'inizio della fioritura di una primavera che ora questo Papa Francesco che ora è attuale e canonizzerà i due anche attraverso tutto il lavoro fatto prima, il lavoro di concime fatto dall'emerito Papa Benedetto XVI possiamo dire che il campo del mondo è stato seminato, arato ed ora la nuova evangelizzazione è qualcosa che è sulla bocca di tutti e sta diventando un patrimonio comune di tutta la Chiesa per il mondo. Giovanni Paolo II è una forza, tocca quasi tutti i paesi del mondo, il suo pontificato è molto lungo, sicuramente asseminato, asseminato e a partire dal suo pontificato e dai suoi viaggi la Chiesa è rinata, è ripartita e questa è storia di oggi. Abbiamo un Papa Francesco che in qualche modo prende un po' da Giovanni XXIII e un po' da Giovanni Paolo II che prosegue la loro opera e li proclama santi lo stesso giorno. Il mondo d'oggi, che in continua ricerca di approvazione dei propri errori, anche da parte della Chiesa, riesce ancora ad apprezzare questi papi? Partiamo da una frase, dunque, Giovanni XXIII, che tutti ricordano per la sua grande simpatia e apertura umana, usava a dire che lui condannava l'errore ma non l'errante. Cosa vuol dire? Che il peccatore se si pente è sempre perdonato, però non si deroga dai principi. Anche Papa Francesco, in questo suo abbraccio, in questo suo atteggiamento di misericordia, non transige mai sui principi, sulla dottrina. È solo, credo, un'informazione sbagliata dei mass media che tende a farlo apparire come un Papa, come dire, che è disposto a perdonare. Non dimentichiamoci, comunque, che Giovanni Paolo II in più occasioni ha chiesto perdono per gli errori degli uomini di Chiesa. Pensiamo alle crociate, pensiamo alle persecuzioni che ci sono stati nei secoli, alle crociate, all'atteggiamento verso gli ebrei. Ma questi sono errori degli uomini, anche di Chiesa. Diciamo che, per quanto riguarda il fatto di essere Papa, il Papa cambia, cambia nel tempo. Ogni Papa è adeguato alla sua epoca, per cui Giovanni XXIII era adeguato alla sua epoca. Poi ci sono stati altri Papi, oggi c'è Papa Francesco. Ma il Papa, in qualunque epoca viva la sua esperienza di vicario di Cristo, è sempre un testimone di fede. Quindi è sbagliato fare delle classifiche fra i Papi, come se ce ne fossero di migliori di altri. Il Papa è sempre testimone di fede, vicario di Cristo sulla Terra. La canonizzazione di questi Papi, cosa dona alla Chiesa d'oggi? La canonizzazione di questi due Papi dona alla Chiesa due volti noti, due volti conosciuti, due volti con cui generazioni vicine, perché è la generazione dei nostri padri, sono tre generazioni che si sono confrontate con questi Papi così popolari, Giovanni XXIII in un senso, Giovanni Paolo II in un altro, pur nella sua brevità, il primo pontificato solo cinque anni, Giovanni XXIII, ma è un Papa che è rimasto nella mente e nel cuore di tutti, e Giovanni Paolo II che ha occupato quasi un trentennio di grandissimi cambiamenti, l'ingresso nel nuovo millennio, quindi due Papi così vicini alla storia e alla vita di ciascuno, così dentro nella vita di tutti, diventano Santi perché si possa pregarli da vicino e paradossalmente, pur essendo dei Papi, essendo così vicini, li si può davvero pregare come persone della propria famiglia. Sono esempi da seguire, il Santo è sempre un esempio da seguire, per quanto riguarda il cristiano, il credente, questo è più facile, è più semplice, è come un maestro che ci apre la strada, un padre da seguire, però nel caso di entrambi questi Papi, Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, sono stati due Papi, due Pontifici che hanno detto molto a tutto il mondo, anche a chi cristiano non è, in un modo e nell'altro. Non dimentichiamoci che Giovanni XXIII con la sua azione diplomatica, addirittura ai tempi della crisi missilistica di Cuba, evitato una guerra mondiale, quindi ha un posto nella storia, insieme al Presidente Kennedy e a Khrushchev. Giovanni Paolo II è stato un Papa, come dire, talmente grande e dirompente che ha lasciato il segno, non fosse altro che per il fatto che ha contribuito per esempio alla caduta dei regimi comunisti, alla caduta del muro di Berlino, a una maggior consapevolezza da parte di tutti di cosa vuol dire schierarsi per esempio dalla parte dei poveri, dalla parte di chi non ha voce, ha difeso la famiglia, quindi sono due Papi che sono da seguire per un credente, ma che hanno detto anche molte cose a chi credente non è, cioè in modi diversi, due pontificati diversi, uno più breve, l'altro molto più lungo, che veramente vanno seguiti. La canonizzazione il 27 aprile è un'occasione per fare memoria di entrambi e tra l'altro, se posso dirlo, un libro che sta per uscire, proprio per le edizioni Mimep Docete, che ho curato, che ho scritto con l'amico e collega giornalista e scrittore Alfredo Tradigo, nel nome di Giovanni, due Papi e due Epoche a confronto, è sicuramente un aiuto per ripercorrere la vita di questi due Papi Santi con un confronto continuo e serrato tra le loro due biografie e le loro due spiritualità. Grazie. 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 Grazie.